All'indomani della strage di Münster la polizia tedesca ha fermato sei persone sospettate di stare programmando un attacco all'arma bianca in occasione della mezza maratona di Berlino a cui hanno partecipato 250.000 persone. Secondo quanto rivelano alcuni media locali, il piano prevedeva di accoltellare spettatori e partecipanti scelti a caso. Il principale sospettato tra i fermati risulterebbe essere stato in contatto con Anis Amri che a dicembre del 2016 si lanciò con un camion sulla folla a Berlino uccidendo 12 persone. Polizia e procura si sono rifiutati di confermare che si sia trattato di un attentato sventato ma il sindaco della capitale, Michael Müller, ha ringraziato le forze dell'ordine per aver evitato un attacco contro i pacifici spettatori della corsa.